non ci siamo non ci siamo nella maniera più assoluta nella maniera più assoluta va bene o allora un pizza che è sceso in campo con sufficienza con sufficienza forse nemmeno quello forse pensavano ad andarsi a fare una passeggiata forse andavo pensavano ad andarsi a fare un picnic ma non è che così che funziona non è così che funziona non è così che funziona va bene o ecco questo è quanto per una squadra per una formazione che è praticamente tutte le carte in regola per salire in serie a non è questo il modo assolutamente ma tutti e tutti bene allora al settimo al settimo prendiamo la rete e poi al ventiduesimo va bene un primo tempo veramente inguardabile sotto ogni punto di vista va bene inguardabile è il mazzo per l'amor di dio lasciamo perdere marine sicuramente non era la sua giornata e perché non era la sua giornata anche le verbe ci ha messo il suo oggi va bene può capitare perché alla fine può capitare ma non è così che si approcciano le partite non è questo il modo ringraziando dio ringraziando dio poi beruato ha fatto ha fatto l'assist e cohen ha dimezzato diciamo così lo svantaggio c'è una cosa improponibile un primo tempo veramente inguardabile sotto ogni punto di vista va bene poi è entrato poi finalmente il mister ha capito di sostituire e di ma ha capito è di sostituire e di mettere e di birindelli che non si può fare a meno di birindelli ancora non abbiamo capito purtroppo purtroppo nel senso non possiamo fare a meno di di un esterno del genere va bene non possiamo fare a meno di un esterno del genere mastino io io non ho più parole per dire no a mastino ragazzi ma io veramente non 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 si riesce a capire non si riesce a capire veramente ancora cosa dobbiamo fare con mastino perché non si riesce a capire non si riesce a capire cosa ci dobbiamo fare con mastino in campo va bene è entrato sibili la partita da così ha fatto così è entrato birindelli da così a così e meno male meno male che poi caraccio lo sci mette la toppa ci mette la toppa io io veramente sera sono sono fuori di me cioè non non esiste non esiste sono fuori di me io continui poi deve mettere un cielo no alla madonna a tutti i santi deve mettere un cielo continui stasera perché non salvataggi sulla riga salvataggi di qui salvataggi la una cosa impressionante noi ci siamo svegliati fondamentalmente nel secondo tempo o meglio quattro minuti alla fine del primo tempo ci siamo svegliati quando poi abbiamo abbiamo sentito cioè ma io vorrei sapere una cosa no io vorrei sapere una cosa ma cosa pensiamo quando si scende in campo a cosa pensiamo quando scendiamo in campo va bene perché purtroppo d'altra parte andiamo a vedere il tabellino 28 tiri per il pidico 28 tiri totali per il pisa 8 il vicenza che la maggior parte infatti tiri importa due vicenza 10 pisa c'è una cosa incredibile una cosa impressionante una cosa impressionante ma io dico io con una partita del genere una partita del genere che ti giochi fondamentalmente tutto perché questi sono l'ho detto e lo ripeto questo è il momento di buttare in campo tutto quello che ti ha perché ti giochi la serie a diretta te la stai giocando o meglio te la stai fumando ecco questo è il discorso te la stai fumando che la stai fumando con l'idea con l'idea con l'idea che qualcuno si ritrova con l'idea che qualcuno si ritrova te ti stai fumando la salita diretta in serie a e te la stai complicando la vita da solo te la stai complicando da solo cinque partite una sconfitta e quattro pareggi ma dove vuoi andare ora devi solo sperare che gli altri pareggi questo devi fare la cremonese ha vinto quindi è già su senza problemi domani in lecce vedremo cosa farà con l'alessandria e poi brescia c'è il rischio che ti trovi anche quarto è domani perché perché hai la testa da tutt'altra parte perché scende in campo non lo so io come come cosa e poi ti rovini le partite te le rovini da solo eh te le rovini da solo te le rovini da solo ci stiamo insistiamo così con queste formazioni e con questo modo di giocare che sicuramente andremo lontano non si scende in campo con sufficienza non si mettono formazioni in campo così tanto per metterle perché tutte le partite vanno giocate alla stessa misura e alla stessa maniera bisogna scendere io l'ho sempre detto e continuo a ripeterlo bisogna scendere in campo concentrato sia con la prima se si gioca con la prima con la seconda con la terza e sia che tu giochi con l'ultima devi scendere in campo concentrato e attento a quello che fai e soprattutto attento a quello che fai perché ora non ti puoi permettere più di sbagliare quant'è l'abbiamo detto anche ieri in trasmissione e invece non è servito a niente sì è vero nel secondo tempo abbiamo tirato a più non posso è presa a pallonare il vicenza contenita ha detto no e alla fine l'hai pareggiata e hai preso un punto ecco questo è quanto questo è il risultato il risultato è questo che ti alla fine è preso un punto perché sei stato disattento sei stato svogliato non hai avuto la voglia sin dall'inizio di metterci la testa questo è stato il problema né più e nemmeno beh io basta ma finisco qua sono sfogo perché questo era veramente basta e basta e basta è uno sfogo perché non si possono più vedere partite del genere va bene non si può più vedere ma non solo in una c'è veramente stata una cosa cioè indescrivibile scendere in campo un primo tempo prenderne due in questo modo roba da non credere roba da non credere e poi di punto un bianco cercare cambi sostituzioni allora i cambi sostituzioni se vedi che non vanno le fai prima li fai prima i cambi questo è quanto l'interno e l'abbiamo messo il secondo tempo e simili cosa abbiamo cosa aspettiamo aspettiamo 60 amo sempre lì bene io per questo video la finisco qua se vi è piaciuto questo video pollice su se non vi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e io vi ricordo una cosa il pizza resta sicuro e qualcuno passa